I due partner. Perché moltissimi rapporti d'amore finiscono? Commento. Perché vi vengono rapporti d'abitudine in cui i due partner non tengono conto del tragitto evolutivo dell'altro. Ed allora uno dei due io o entrambi gli io diventano insicuri nella gestione del rapporto. E questo si esaurisce. Infatti molti rapporti finiscono perché non c'è più la capacità di adattarsi, di adeguarsi, di accettare, il che significa comprendere, i cambiamenti evolutivi l'uno dell'altro come naturali e quindi indispensabili alla crescita di entrambi i protagonisti del rapporto.